Abbiamo 100 grammi di quinoa, un uovo, 2 cucchiai di grana, 2 cucchiai di pangrattato, sale e pepe. Qua abbiamo 145 grammi di spinaci che stiamo facendo bollire con un po' di olio e aglio. Prima cosa andremo a sciacquare la nostra quinoa perché sennò viene troppo amara. Poi saliamo l'acqua, un cucchiaio, e andiamo a buttare la nostra quinoa. Accendiamo il forno a 200 gradi. Allora dopo circa 15 minuti la quinoa assume un aspetto così, un po' trasparente. Così significa che è pronta. Ora che si è raffreddato mettiamo gli ingredienti. Pescoliamo un po' Pescoliamo un po' sale pepe Pagrattato E ora che il nostro impasto è pronto andiamo a comporre le polpette. Pagrattato eccoci qualcuno ha sentito il profumino? opp eh si è vero ok wow wow